Siamo con Giovanni Grasso, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermiristiche di Arezzo e della Regione Toscana. Che cosa chiedete a Gran Voce per tutelare in primis chi è oggi un operatore sanitario che poi ovviamente è una tutela che si estenda a tutta la popolazione? Sono due le richieste in questo momento particolarmente necessarie. La prima è dotare tutti i collaboratori, tutti gli infermieri, tutti gli ossi, i medici che lavorano in vari setting ospedalieri di dispositivi adeguati e nei setting di emergenza come pronto soccorso 118 a dotarle anche di FFP3 che sono mascherine necessarie in alcune attività di assistenza diretta o di cura. Un'altra richiesta che abbiamo in maniera veramente plateale è l'utilizzo di tamponi a tutti gli operatori sanitari perché è necessario sapere lo stato di salute di questi operatori, è necessario sapere se sono positivi o portatori sani o sono persone che non hanno contratto per fortuna il virus perché è necessario saperlo sia per le loro famiglie ma soprattutto anche per chi andrà in ospedale per avere delle cure. I test stereologici che aveva annunciato alla Regione Toscana diversi rispetto al tampone, quella è un'indagine che si fa a livello proprio di esame del sangue per vedere se ci sono gli anticorpi oppure no, quindi se la malattia è già passata e la si è superata o se invece è in corso. Sono partiti ma a rilento, quindi noi chiediamo a gran voce che vengano controllati questi nostri colleghi e vengano controllati per un bene comune, per un bene di salute di tutta la comunità.